Proviamo la scultura, però prima c'è il testo di Gianni Patton, che è molto interessante perché racconta il termitarium, però in maniera vaga, cioè in maniera poetica. Se lo inquadri c'è qualche secondo, così lo possono leggere. Io ho dipinto questo con la pittura fluorescente, anche quella fluorescente che si legge anche di giorno, non solo di notte. Ci sono due tipi di pittura, una spray e un'altra proprio fosforescente, che si accende di notte. Ecco qui dei cocci siciliani, vedi? Eccoli. Questa è una terra ricchissima di arte. E noi l'abbiamo ampliata con questo. Esatto, abbiamo fatto la nostra parte.